L'Occidente ha sbagliato con Putin. Io sono sempre dell'idea che quando vinci non devi stravincere, non devi umiliare lo sconfitto, ma come ti è venuto in mente di mettere i missili in Polonia, di pigliarsi io capisco che l'Estonia, la Lettonia, la Lituania non vedevano l'ora perché Stalin si era preso e così, come la grande manuna di un cartone animato che si piglia il frugoletto, e quindi avevano voglia. Ma come ti vieni di farci la NATO, i missili lì dentro, in casa di Putin, in quella che è stata casa di Putin? Non era meglio fare una fascia, diciamo, di apparente neutralità, fino occidentale, ma senza esagerare. E quello poi sarei preso.